procedura della vasca ovviamente con lo smalto della resina fanno i costi non si possono mettere perché ovviamente la vasca non si può cambiare i sanitari sì ma la vasca no e quindi è normale da la dobbiamo titola dopo vi faccio vedere il risultato viene nuova viene nuova amici si dipinge con sanalux ceramica questo qua avete visto questo è con smalto di finitura bicomponente ora vi farò vedere ovviamente sono due catalizzatore che si mischia si mischia qui dentro e si mischia si mescola tutto e siamo pronti per dipingere scetto ecco Grazie. E' visto amici? Il Nando è la prima mano, scegli. Il Nando ci sto dando la prima mano, poi vediamo come esce e per forza scegli.